Quasi 120 m alla rotonda e prende la prima uscita e rimedi su presse più 15. Quasi 120 m alla rotonda e prende la prima uscita. Quasi 120 m alla rotonda e prende la prima uscita e rimedi su presse più 15. Quasi 120 m alla rotonda e prende la prima uscita e rimedi su presse più 15. Quasi 120 m alla rotonda e prende la prima uscita e rimedi su presse più 15. Quasi 120 m alla rotonda e prende la prima uscita e rimedi su presse più 15. Quasi 120 m alla rotonda e prende la prima uscita e rimedi su presse più 15. Quasi 120 m alla rotonda e prende la prima uscita e rimedi su presse più 15. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.